E' attivo l'ambulatorio BRØ, ovvero basso rischio estetrico. Possono accedere a questo ambulatorio tutte le gravide che hanno una gravidanza fisiologica, quindi senza patologia. Questo ambulatorio non serve solo per la gravidanza, ma bensì ha un proseguo che vede sia il travaglio che il parto che il postparto. Si tiene ogni lunedì dalle 15 alle 18 al piano zero. Le donne verranno scrinate dall'ostetrica in tutta l'autonomia, passeranno dal pretriage e verranno poi indirizzate alla stanza dedicata. Nel travaglio faranno da cornice non metodiche farmacologiche del controllo del dolore, ma verranno adottate delle posizioni dei massaggi e dell'acqua dove gli ostetrici sono specializzati. Subito dopo il postpartum si prediligerà lo skin to skin e l'allattamento, quindi il contatto pelle a pelle tra madre e bambino. Tutto questo servizio è garantito dall'equipo degli ostetrici, quindi in totale autonomia gli ostetrici seguiranno gravidanza, travaglio, parto e postpartum, assicurando sia sostegno che professionalità alle donne. Grazie. Grazie.